È un sostegno essenzialmente per il trasferimento di materiali, per le concessioni di basi. In nessun modo sarà un intervento militare diretto. Questo lo voglio ribadire con grande chiarezza. Non è previsto nessuno spiegamento di forze militari italiane nel teatro operativo. Questo è lo stato della riflessione all'interno del governo ed è quello che viene prospettato anche in Parlamento.